Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Entra! Non entra! Entra! Dov'è di sto trapezio? Sappiate che non ho mai visto il video di questo signore a parte una volta Non li giocherò più, non ho assolutamente voglia degli stream sniper che vengono a dare fastidio Preferisco andare a farmi le ranche, andare a farmi le pubbliche o fare le cose Se devono arrivare i bambini a darmi fastidio, sinceramente faccio altro, non sono interessato A 8100 Merda! Ciao Matteo Peto! Matteo Peto, 8 mesi Maschino non è male, eh? Maschino non è male, ti prego buttami dentro perché sennò devo già riavviare Baga caricamento dici, dale! Facciamo un piccolo, facciamo un piccolo countdown partendo da 15 15 14 13 12 11 No, no, chiamo la scoddina C'è porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Troia di quella merda bastarda! Porco cazzo! Sì, ma... salve! 100 patatine, GT sottolineatura di Roxx Buongiorno Zay Roxx! Ciao Roxx! Ciao Bro, come stai? Non vedo l'ora di vedere Fortnite Lego Vanno i server off ragazzi, anch'io non vedo l'ora di vedere Fortnite Lego Puttana sua madre la baldracca di merda succhiatrice di cazzi seriale che fa sconto comitivo il giovedì! Puttana di quella troia di merda! No! Ahhh! Andiamo a giocare, Freda! Mtta ma quanto fanno! Quattro caution IL CULO! VA COGLIONE! È difficile mai giudicare Quello sicuramente Mi sa che c'è gente C'è gente senza il misato Beh ragazzi però Gesù è Gesù! Dio è Dio! La Madonna è la Madonna! E che cazzo! Scusate Merda cazzo! Eh poi siamo anche in tre eh Merda cazzo! Però 17% non abbiamo derancato Non più Io ne ho derancato... Ah ma è la prima questa Bok sottolineatura è di nostra Ciao Bok benvenuto col Prime! Ciao bello! C'è una situazione la vedo veramente critica Merda! Che top abbiamo fatto? GG! Bravo! Hai fatto benissimo a pusharmi! Bravo! Va bene top 4 con 3 kill! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Bravo! Ho fatto bene! Platino 2 65% Tra l'altro c'è un problema notevole raga! C'è un problema notevole! Io ho 25 mila patatine per fare 150 corone! Ma se gioco le rank non è fattibile! Ma io ce l'avevo un medaglione! Ma io ce l'avevo un medaglione! Questo è il problema! Però è troppo troppo importante! È troppo troppo importante! Ping non c'entra niente! Entra! Non entra! Entra! Non penso proprio a fare un evento di Samsung! Ah non è Snowflakes! Ciao Exploit! Ciao Gian! C'è il torneo! C'è il torneo! 7 mesi! Buongiorno Xiu Derone! Buongiorno Vengs! Tutto bene! Forza Genoa! Forza Genoa! Andiamo! L'Oriale lei c'è al mio concerto venerdì? Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! L'ex Xenoma Inuza! No! Non si può fare così raga! Merda! Voglio fare il doppia RIA questo season! Assolutamente sì! Fede! 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 Errini eh sì Il problema della connessione con TikTok Allutiamo sta casa Nettuno Allutiamo questa casa Nettuno Sì Ok Questa è la mitragliata non ci interessa La madre è veramente una stupida puttana di merda Succhiatrice di cazzi Veramente in maniera compulsiva ossessiva Figlio di puttana pezzo di merda Rotti in culo bastardo Su caminca delle otto Diavolo porco diavolo Sparco diavolo parco diavolo Sparabene figlio di puttana Sparabene Cazzo Io me ne sono appena trombati due Con una prepotenza vergognosa E un pump verde Gli ho scopati entrambi Merda Ah lei ha detto Il tattico giusto Winterfest Daily Gift Ma che cosa che cosa che fa Zovolin Zovolin Zovonello E' un po' pazzo E' un po' pazzo mi sa 200 patatine Zovoseiba Certo Ciao Cxuder puoi salutare il mio amico Tampe e Dilenia Salutiamo anche Tampe e Dilenia Ciao Buongiorno Buongiorno Un saluto Un saluto Come va Come va Allora Sì Krampus è il mostro del Natale Allora Winterfest Daily Gift Come vedete Si ho Ciao